Sono molto contento di essere qua oggi perché veramente ci tengo, perché tutte le università e gli Atenei percepiscano un senso di virata, che ci sia un cambio di rotta perché giusto rispetto, forza e per le nostre università ci sia il momento per decollare in maniera totale. Questa è un'università ottima, fatta di persone attente, competenti, che sicuramente con noi adesso riprenderemo una strada nuova verso un rilancio dei nostri Atenei.